Le interviste esclusive del sesto congresso. I saluti degli amici del COISP. La serata di gala, professionalità e beneficenza. Questo avvenimento grandioso ma soprattutto le tematiche e tutto quello che è emerso da quelle giornate di discussione, dal congresso ma anche dai due convegni nazionali, dai minuti di riflessione che abbiamo passato con moltissimi amici ed ospiti. Una festa del sindacato, della democrazia sindacale dove il COISP si ripropone come protagonista dentro e fuori i limiti della nostra amministrazione. Lasciamo quindi spazio alla regia. Un ospite veramente speciale, un evento quasi per il congresso nazionale del COISP. Il nostro motto è più indipendenza uguale maggiore valore e la persona che è al mio fianco è per la prima volta che parla con un cliente. è il console generale italiano responsabile degli affari economici dell'Iran in Italia. Quindi, benvenuti, benvenuti al nostro obiettivo e il nostro motto è più indipendenza uguale, con più indipendenza uguale abbiamo più valori. Perché siamo un'unione polizia e siamo orgogliosi di nostra indipendenza. E il tuo paese è orgogliosi di sua indipendenza uguale, soprattutto dopo l'elezione. Quindi, ciò che ho chiesto è chiesto il nostro obiettivo, come abbiamo già già fatto. E quali sono i valori di questa indipendenza uguale? Ok. Prima di tutto, voglio ringraziare il comitato di questo congresso per inviare a questo obiettivo uguale, per il nostro obiettivo, per il gruppo di Italia. E un speciale ringraziamento che voglio ringraziare qui, per il gruppo di Polizia, che cooperano molto bene in organizzare la nostra riconoscenza in Milano, per la comunità iraniana nel nord del paese. Il saluto è ovviamente un ringraziamento anche particolare, perché le recentissime elezioni in Iran hanno visto coinvolto proprio il Consolato Generale di Milano, che copre tutto il nord Italia. Quindi hanno collaborato da vicino proprio con la Polizia. Il Consolato Generale ringrazia e saluta anche il congresso del Cospi e i congressisti, che l'hanno approvdito veramente di cuore all'interno della sala pochi minuti fa. Quindi, grazie molto per essere qui. E speriamo di vederti nel prossimo futuro. Grazie. E di continuare a continuare con tutto. È una buona cosa che sta succedendo in Milano. Grazie, grazie. Grazie molto. Siamo con Lui Pasecato, direttore sportivo e un noto opinionista televisivo che ha già ricevuto complimenti da parte di tantissimi colleghi qui al Congresso Nazionale del Cospi di Vicenza. E anche a lui rivolgiamo la domanda che abbiamo rivolto ai nostri ospiti. Più indipendenza uguale maggiore valore. Questo è il motto del nostro Congresso Nazionale. Lui, dacci un consiglio per realizzare. Questo motto è un bel motto. Comunque, alla fine, indipendenza uguale valore. Comunque, sono dei valori importanti. Io, posso dire, nel mio piccolo sono trasmetto un polizzato mancato. Ho sempre avuto, diciamo, aspirazione a fare questo ruolo. Poi, fuori di mamma, non si comanda e ho optato per altre scelte. Giustamente per dare un valore a un'istituzione, a un corpo di pulizia che fa tanto per la gente. Dunque, è giusto che venga valorizzato mettendo più mezzi, mettendo comunque più solvenzione affinché chi fa questo lavoro possa fare nel migliore dei modi. E questo è importante. Ed è quello che abbiamo chiesto ai tanti politici che si sono affacciati a questo Congresso Nazionale. Ma la tua esperienza, chiaramente, sportiva. E quindi, abbiamo parlato anche con altre persone che hanno andato a che fare proprio con il mondo dello sport. è un valore di esso stesso per avere una società migliore. Credo che nella tua esperienza ti possa testimoniarlo. Assolutamente. Lo sport, diciamo, è una cosa sociale che unisce tutti quanti, no? Dunque, neanche lo sport siamo tutti amici, non ci sono ruoli, non ci sono distinzioni. E siccome, purtroppo, almeno ci sono ancora a volte dei problemi allo stadio, per esempio il razzismo negli stadi, io penso che uno di quei valori che ci sta parlando è proprio quello che grazie al posto dell'Ordine si possa combattere, diciamo, in maniera efficace questo fenomeno. E è giusto che vengano messi tutti gli strumenti a nostra disposizione da far sì che si riesce a terminellare questo fenomeno negativo. Tu vedi molte curve, molti stadi, tu vedi molte situazioni in cui accadono queste cose. La tua reazione davanti a queste cose? Tu preferiresti, ovviamente, tutti vorremmo che queste cose non accadessero perché non c'è niente distruttivo in quello che succede tante volte intorno al mondo del calcio. Come facciamo a recuperare questo valore? Da dove deve partire la società per evitare che il razzismo entri in vista? Per partire dalla base, per partire da un maggior dialogo, un maggior interscambio che comunque io posso portare l'esperienza, anzi posso anche portare la metà della cultura che mi appartiene, insegnandola a un italiano indigeno e viceversa l'italiano può aiutare a capire che l'Italia sta cambiando, dunque è giusto cercare comunque di un paese in cui la coppia nazionale non è che possiamo sempre essere visti come un grande paese ancora arretrato. E anche questo ragionamento, queste tavole rotonde per le forze dell'ordine è importante perché giustamente uno può usare anche la repressione, la manganellata, però spesso queste cose qui non si risolvono solo con la manganellata, si risolvono con un dialogo costruttivo che insieme riesce a far crescere tutti i partiti in casa. Benissimo, allora grazie per la partecipazione al setto congresso nazionale dal nome del TG Toysp. Grazie a voi, per me è stato un onore. Grazie. Siamo con il dottore Claudio Costa, che è il direttore della clinica mobile mondiale dell'ultimo ciclismo, un altro amico del TG Toysp che ci viene a trovare oggi e che parlerà dinanzi alla sommaria dei delegati. La sua esperienza è molto particolare, quindi il nostro convegno di oggi che si intitola nel web alla strada, il convegno che facciamo questa giornata è all'interno di questo congresso nazionale. Questo convegno nazionale ha questo motto. Il dipendenza vale maggiore valutazione. Un consiglio perché questo motto si realizza. Questo motto mi spiega già il suo interesse. Credo che tutti quelli che vivono in una società devono in un'altra parte del mondo. Io ho una mia voglia che ci sia qualcuno che protegge. Quando siamo nati noi potevamo vivere solo se ci proteggevano, quindi questa bellissima esperienza, la rippaginistica, ce la compagna per tutela vita. Quindi quando noi vediamo un'istituzione che protegge, noi la dobbiamo adorare e rispettare e vogliamo che questa abbia il massimo della sua indipendenza, abbia il massimo del suo significato, perché a quel punto tiene fuori senso e valore. Quindi non credo che ci siano bisogno di questi congressi, a meno di non fare risaltare questa verità, perché la verità è già dentro tutti noi. Noi vogliamo questa attenzione e dobbiamo trovare che ci proteggevano. Benissimo, la ringrazio. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Stefano Domenicali. In occasione del vostro sesto congresso nazionale volevo porgere i miei più sentiti saluti a tutti i membri del COIS. Nel mondo delle competizioni sportive la sicurezza ha fatto passi da gigante e noi come Ferrari siamo in prima linea per promuovere tutti gli aspetti che la riguardano. Il lavoro di prevenzione che svolgete, mettendo anche a rischio quotidianamente la vostra incollumità per la nostra sicurezza, contribuisce a salvare molte vite. Questo è fondamentale, rappresenta un valore aggiunto a tutela dei cittadini e delle nuove generazioni di automobilisti. nei nostri rispettivi campi dobbiamo continuare a diffondere questo messaggio per garantire una corretta educazione e soprattutto il rispetto delle regole della strada e della convivenza civile. Siamo con il dottor Vittorio Caffaggi della Dainese, responsabile del gruppo della sicurezza dei progetti speciali di cui fa parte anche la Polizia di Stato e anche a lui chiediamo consiglio perché questo motto che oggi abbiamo anche oggi al Congresso Nazionale del COIS maggiore indipendenza uguale più valore, qual è? Il suo consiglio perché questa cosa si concretizzi dal punto di vista di chi della sicurezza ha fatto un dogma aziendale. Assolutamente, io credo che il valore che risieda proprio nella diffonda della cultura della sicurezza stradale. In tre modi, la prevenzione, che sappiamo che la Polizia è molto attiva sul fondo della prevenzione e c'è molto da fare. Io sono personalmente convinto che la sicurezza stradale debba diventare materia di insegnamento nelle scuole. C'è poi la parte di esempio e di adozione di tutte le attrazzature che possono diminuire le conseguenze e qui Dainese come produttore di protezione credo che sia molto cosciente di questo problema e sicuramente la Polizia, anche da questo punto di vista, è un esempio in quanto adotta per prima e mostra alcuni dei più aggiornati sistemi per protezioni, in questo caso i motociclisti sulle strade di tutti i giorni. Terzo ovviamente è la repressione, ma sappiamo già, c'è probabilmente tutto quello che serve, mancano forse un po' le strutture in misura sufficiente, però sono questi tre i punti sui quali lavorare, direi in ordine proprio gerarchico, prima prevenzione, poi strumentazione e infine, sperando di doverne fare il meno possibile, repressione. Quindi credo che siano questi i tre punti sui quali lavorare e anche l'ordine dei prevenuti. Benissimo, grazie mille, allora siamo con Simone Corsi, che è un pilota di MotoGP della Fiamme O, quindi intorno alla Fiamme O, della Polizia di Stato, è un orgoglio ovviamente per tutti, gli ultimi Gran Premi, tra l'altro diciamo che entusiasmato era entusiasmato, quindi noi vorremmo chiedere anche a te i consigli. Il nostro voto in questo sesto congresso è maggiore indipendenza, più indipendenza uguale e maggiore valore. Qual è il tuo consiglio perché il COIST posso realizzare? Ovviamente siamo colleghi, quindi a favore di tutti i colleghi, perché ci sia questa cosa concreta. Qual è la tua ottica da sportivo per parlare ai colleghi, un saluto, un'idea? Avete appena finito? Avete appena finito un convegno in cui si parlava di risorse che fanno? Siamo parlando di sicurezza e noi siamo, nel modo sempre spaventando, con un Erbeo. Ieri, siccome anche nelle nostre porte non c'erano, ma sicuramente saranno massicurati in più. Un po' che dire, rispettare i limiti penso sia la cosa più importante per l'estratto. In vista a non rispettare i propri limiti, non si può, non si deve. Io mi rendo più le porte e si può andare così a fare tutto. Oggi avendo una platea di Polizopi da tutta Italia, tutti vogliono farsi il foco, tutti vogliono... Qual è la tua idea per il futuro, i tuoi progetti immediati e futuri per la Unita? Per il futuro adesso partecipo al Tampion del Mondo 2 e il F1 il Sony segretario è una foto. Non manca da uno, mancano ancora molti risultati poi arriveremo ai tuoi colleghi già con il GPL, il GPL fare un trio ti chiamiamo ora gli auguri che ci sono arrivati da parte di tutti e ti rifacciamo anche noi con i PCCOS e ti ringraziamo per questa cosa che ci sono grazie siamo con l'avvocato Giorgio Carta un amico del COES un amico delle forze dell'ordine che ha seguito il COES e che sta seguendo con il COES come ci spiegherà nella famosa trattativa Stato-Mafia in quel processo in cui il COES si è costituito parte civile unico sindacato di polizia a tutela del nome e soprattutto purtroppo di quanto è accaduto in quelle stragi del 1990 e anche a lui chiediamo un consiglio per realizzare il nostro moto del VI Congresso Nazionale per i prossimi cinque anni più indipendenza uguale maggiore valore per noi l'indipendenza è al centro del nostro simbolo del nostro logo perché per noi l'indipendenza è un valore importante quindi vogliamo aumentarla un consiglio? il mio consiglio è andate avanti così perché la vostra indipendenza è indiscutibile nel resto anche le vicende di Ferrara dimostrano che quando pensate di avere ragione e avete ragione andate avanti nonostante tutto quello che piove attorno tra giornali, tra sindacati tra emigratori di professione o opportunisti quindi il consiglio non è di cambiare di restare così e di andare sempre in fondo alle questioni come faccio del resto io quando vengo con voi nelle vostre battaglie diciamo in divisa nell'intervista che è appena accaduta adesso all'interno del parco del nostro Congresso Nazionale parlavi dei cittadini in divisa e hai fatto uno specifico importante per quanto riguarda la costituzione come parte civile del COIS nel processo d'attratativo stato mafio perché noi in realtà siamo ancora in gioco sì, il processo si è diviso in due tronconi noi stiamo ancora in tronconi diciamo contro il Mancino contro, scusate, Mannino il caro giorno Mannino la parte, diciamo, del tronconi in udienza pubblica ci ha visti esclusi ma non noi tutte le associazioni diciamo anche Legende Rosse Dorsellino e non per motivi giuridici semplicemente sono valutazioni discrezionali del Presidente che snellisce il processo e lo fa andare un po' più strido quindi quell'intenzione c'è sempre prosegue nella parte, diciamo, del processo per cui ancora non siamo costituiti ma quella è il motivo ispiratore per le battaglie del COIS per le mie e fin quando saranno i compagni di viaggio noi parliamo un attimo anche di questo concetto del cittadino in uniforme noi siamo tra i sindacati di polizia probabilmente quelli che hanno sposato tra le prime cause non direttamente collegate se vogliamo ai nostri iscritti ma anche come ricordiamo la manifestazione delle finanze della Corte Costituzionale battaglie per un'uguaglianza dei cittadini in uniforme rispetto agli altri cittadini un paradosso che solo l'Italia si viveva quello che io ho sempre apprezzato della politica del COIS di Franco Macari in particolare è che non ha mai fatto delle battaglie un problema degli appartenenti ma ha fatto le battaglie un problema delle forze di polizia in generale compresi i carabinieri che i sindacati non hanno anche la manifestazione sulla legge 104 del 92 che ha avuto un esito favorevole perché poi la giurisprudenza è cambiata a favore delle forze di ordine lo dimostra quella battaglia fatta da noi pochi che ci hanno creduto se ne sono poi vantaggiati tutti gli altri sindacati quelli che pur invitati non avevano voluto partecipare e però nei loro siti mettono le sentenze di quella famosa battaglia togliendo i nomi degli allocati anche perché così non si riconosca qual è la matriccia di quelle sentenze quindi una lotta sui valori è il nostro lo sforzo di Franco Macari del COIS che è sempre stato da quello che ho visto io sulle idee non sul vantaggio del singolo sindacato e credo che così si vinca infatti i carabieri che non hanno sindacato io sono qua con Vincenzo Bonacorso un combattente dei carabieri ha avuto sempre in Franco Macari nel COIS per tutta la nostra attività una alleatua diciamo pronto che agiva nell'interesse anche di altri certo una battaglia di democrazia che speriamo che prima o poi porta dei risultati concreti con finalmente l'ingresso di reali rappresentanze con un potere contrattuale importante rispetto alle enormi problematiche che vivono soprattutto le porte di polizia carabertunitale quello è un indirizzo di tanti anche perché diciamo che il corso del sistema così non ponderà il processo sull'operativa statomacchina il resto è contro quale altre anche degli uffici dei carabieri quindi ripeto non un problema direttamente relativo alla polizia ma le forze di ordine quindi è la matrice del poisto e io credo che ripeto il consiglio rimanete sempre così bene grazie grazie mille e grazie a voi buon lavoro e siamo con l'avvocato Eugenio Pini specializzato nella difesa dei poliziotti ma in realtà un amico che abbiamo incontrato un nuovo percorso un cammino che si è rivelato anche nel nostro motto più indipendenza uguale maggiore valore il motto dell'ingresso nazionale del COIS perché stiamo venendo in queste ore a Vicenza c'è anche questo valore il valore di avere comunque qualcuno a fianco che conosca la tua specificità e che capisca quali possono essere le difficoltà che incontrano quindi chiediamo anche all'avvocato Pini qual è il consiglio qual è la la prospettiva all'interno del quale possiamo inserire nel nostro motto questo percorso che si è rivelato il consiglio non ho il problema in Italia sicuramente la capacità di analisi che è manifestata adesso già oltalevata è stato inquadrato un punto grande della vita del polizionico ovvero la applicazione dei diritti anche in sede processuali per i poliziotti hanno la possibilità di spiegarli ampiamente quindi il punto di partenza è sicuramente potente dopo l'analisi si dice che ci vuole una sicurezza quindi lasciare di utilizzare di utilizzare dando anche un contributo di un'attività quindi che possono essere passaggi per dare migliore sicurezza e quindi per far conto che i poliziotti già vissi nel rinforaggio della sicurezza che mi permetterà di un'attività di un politico vostro socialista di unicidurista di un'attività di un'attività inizia la ricerca di sostituzione di un'attività del cipolletico di unicidurista benissimo grazie noi abbiamo fatto un'attività di unicidurismo grazie E quindi chiamo qui al mio fianco il regista Giancarlo Marinelli. Gli attori protagonista Donatella Bombadur, Simone Vario e la grandissima Ivana Monti. Chiamo ovviamente qui anche il piccolo che è stato protagonista, il più piccolo tra tutti, parte integrante di questo progetto. L'idea è venuta incredibilmente attraverso un sogno, perché quando Luca Prioli è venuto a casa mia e mi ha chiesto di pensare a un piccolo film su questo momento devastante per la vita tanto dei familiari quanto dei poliziotti, ho subito pensato nottetempo a un bambino in riva al mare e da lì sono partito. E ho chiesto alla mia vera musa ispiratrice degli ultimi spettacoli in teatro che è Ivana Monti, ho chiesto a Donatella Bombadur, ho chiesto a Simone Vario e a il protagonista del mio sogno che è Alberto Smanio insieme a un cast tecnico meraviglioso che è il direttore della fotografia Alessandro Zonin, il mio montatore Andrea Bergamasco, la mia assistente Federica Soranzio, il trucco, il parrucco. Ho chiesto di entrare dentro questo suo sogno e di regalarmelo ad occhi aperti. Il film, se vi è piaciuto, è soprattutto per merito loro. Grazie Giancarlo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.